Testimoni oculari proprio dello scontro dei due caccia, due ragazzi che poi si sono riusciti anche ad avvicinare ai pezzi. Che cosa avete visto? Sì, io stavo tornando con lo scooter a casa, mi trovo qui sulla piazza di Mozzano, sento il rumore di questo tornado, alzo lo sguardo e vedo questi aerei che volavano a bassissima quota e si toccano, esplodono, un boato molto forte, tutto fumo nero, abbiamo preso lo scooter e ci siamo regati subito da dove veniva questo fumo. Abbiamo visto le fiamme, siamo andati lì molto vicino e abbiamo trovato dei pezzi degli aerei esplosi e poi abbiamo visto anche il paracadute che stava sopra una pianta, una cosa gialla diciamo siamo andati subito lì vicino e c'era un giubbino, quello che sia, il paracadute e sopra la pianta abbiamo visto per vedere se c'era qualcuno ma non rispondeva nessuno. Voi stavate dicendo che volavano molto bassi, in che senso? A bassissima quota, ho alzato lo sguardo e sembrava che toccavano le case, stava molto vicino. Siete stati colpiti dal rumore perché voi lo avete visto in avvicinamento, neanche con l'esplosione? Sì, sì, io l'ho visto in avvicinamento, il rumore che fa il solito tornado, il solito jet e poi si sono schiantati. Ecco, dici il solito jet perché da queste parti, voi dite spesso, spessissimo passano i caccia? Eh sì, sorvolano qui queste parti, molto spesso diciamo. Ma così basso avevano volato come racconto? No, no, mai così basso. E poi insomma vi siete avvicinati, avete visto questi pezzi, che pezzi erano? Cosa avete riconosciuto? Eh, c'erano delle ali, una ruota, altri pezzi distrutti diciamo. Ecco, dovendo localizzare esattamente il luogo del ritrovamento, quale sarebbe? Casa Murana. E poi avete scattato tantissime foto, ecco, voi avete addirittura più di 100 foto? 86, 87 foto. Cioè avete avuto il tempo anche di scattare le foto, perché lì le fiamme non c'erano? Eh, stavano un poco lontani ma tanto c'era il tempo, perché non tirava tanto vento, quindi stavamo tranquilli, ma quando si sono avvicinate siamo andati via. Però abbiamo avuto il tempo di fare le foto. Nel frattempo però avete allertato le forze dell'ordine? Sì, sì, abbiamo fatto abbassare l'elicottero, l'abbiamo chiamato e abbiamo allertato i carabinieri, polizia e pompieri che sono arrivati subito, cioè saranno arrivati dopo 5 minuti scarsi. Abbiamo fatto vedere il paracadute, l'abbiamo aiutato un po' a cercare ma nessuna traccia del pilota. Per terra c'erano litri di tutti i tipi, mascherine, pezzi di ali, tutti i fili, cioè senza parole proprio, non si può descrivere com'era.